buongiorno buongiorno a tutti benvenuti a vediamoci chiaro oggi parliamo della casa quanto importante per tutti quanti noi cercheremo di capire questo decreto ultimo salva casa che interventi si potranno fare all'interno del proprio appartamento soprattutto quanto costa e anche le tasse da pagare nelle prossime settimane ci sarà qualcosa anche da pagare cercheremo insomma di capire le tendenze per quanto riguarda il comparto immobiliare grazie ai nostri ospiti che saluto Alessandra Egidi segretario generale di confedilizia ben ritrovata segretario e ben ritrovato a Fabrizio Segalerba segretario nazionale della FIAIP la FIAIP è la federazione italiana degli agenti immobiliari professionali come sempre se avete delle domande c'è Maris qui in studio ed io sono pronta sto messaggiando proprio con la signora Rita che già ci scriveva le sue domande beh se volete partecipare alla diretta anche voi potete farlo semplicemente mandandoci un messaggio scritto al nostro numero whatsapp il numero è il 340 880 10 35 vi ricordo anche la nostra mail vediamoci chiaro chiocciolatv2000.it e lo sapete potete trovarci anche su facebook instagram ed x vi aspettiamo iniziamo da confedilizia e partiamo dalle tasse da pagare perché tra poche settimane ce lo dobbiamo sempre ricordare perché spesso siamo disattenti bisognerà pagare che cosa bisogna pagare l'IMU c'è appunto la scadenza della rata dell'acconto l'acconto di solito si paga entro il 16 giugno quest'anno il 16 giugno cade di domenica perciò il pagamento può essere fatto entro l'unigli successivo 17 giugno naturalmente è un acconto quindi per quanto concerne l'IMU poi avremo un'ulteriore rata da pagare a saldo che si andrà a versare entro il termine del 16 dicembre più o meno le rate sono sempre le stesse le rate sono sempre le super giù sono sempre le stesse qualora nell'ambito di quest'anno non ci siano state variazioni sostanziali significative rispetto all'anno precedente se ci sono state appunto delle variazioni relative al periodo di possesso o anche all'utilizzo dell'immobile è bene verificare andare a controllare perché nell'ambito delle delibere ci potrebbero essere delle alicote specifiche da applicare ricordiamo che l'IMU non si paga sostanzialmente sulla prima casa quindi sulla seconda e sulle altre case questo in qualche modo visto che gli italiani stanno ritornando secondo me anche un po a fare degli investimenti nel settore immobiliare almeno questi sono gli elementi ha disincentivato e può disincentivare visto che da tanto si paga quest'IMU chiedo a segalerba voi che avete il polso della situazione ma le direi di no cioè nel senso che ormai l'IMU è un qualcosa che è consolidato e metabolizzato anche da parte dei proprietari di casa è evidente che poi sulla prima casa c'è l'esenzione dall'IMU la seconda casa è chiaro che incide in maniera importante però non questo non ha bloccato il corso del mercato anche perché nel 2023 sebbene ci sia stata una riduzione del numero delle transazioni sono aumentati gli acquisti delle seconde case quindi questa dimostrazione anche del fatto che gli italiani continuano a credere nel nel mattone ecco allora parliamo di questo decreto salva casa è insomma effettivo è entrato a pieno regime possiamo scattare una fotografia che cosa vuol dire una sanatoria di piccoli interventi fatti all'interno del proprio appartamento segalerba esatto sì il il decreto 69 2024 conosciuto come decreto salva casa non è un condono perché non ci consente di sanare abusi o un qualcosa realizzato in assenza di titolo originario ma le lievi parla di lievi difformità e sostanzialmente poi diciamo che le le macro aree diventano tre quindi le difformità formali laddove non riusciamo a giustificare lo stato legittimo del nostro immobile e questo dovuto anche semplicemente spesso a quegli aspetti legati alla alla burocrazia con i nostri comuni basti pensare che magari non non si riesce a trovare il titolo originario cioè il progetto iniziale delle dell'immobile possiamo fare degli esempi pratici che cosa vuol dire un tramezzo un una veranda insomma uno ha fatto delle piccole interventi in casa possiamo proprio declinarli quelli più frequenti e probabili da poter sanare allora banalmente ho acquistato sono diversi no banalmente posso aver acquistato 40 anni fa un immobile dal costruttore 100 metri quadri tre stanze ho abbattuto una tramezza e quindi di due di due stanze ho fatto un unico un unico salone e quindi decreto stesso parla di interventi stratificati nel corso del tempo dove comunque sono state realizzate delle opere in assenza del titolo edilizio del provvedimento edilizio quindi cosa succede che successivamente io magari ho venduto quell'immobile vent'anni fa arrivato un altro proprietario ha spostato ha spostato una porta quindi quelle che sono lievi di formità oggi ho la possibilità di andarli a sanare anche perché il decreto supera in parte anche qui non è da analizzare quella che è la doppia conformità cioè la conformità tra il titolo originario e quel e la normativa urbanistica attuale chiedo legiti voi avete lanciato anche uno sportello salva casa proprio per cercare di chiarire tutti i proprietari magari che vogliono intervenire peraltro tutto questo chiaramente avrà un costo cioè fino mi pare a 30 mila euro più o meno insomma se uno vuole sanare queste cose va lì paga sana ma questo è un passo in avanti perché soprattutto si dice anche da parte dell'esecutivo se io voglio vendere casa insomma prima c'erano mille passaggi burocrati non riuscivo a vendere casa ora così sano queste piccole questi piccoli interventi riesco più facilmente a vendere o a comprare una casa allora il decreto sicuramente è una misura che noi abbiamo diciamo accolto con favore proprio perché contiene delle disposizioni di buonsenso che permetteranno appunto si spera di regolarizzare tanti immobili e quindi di far sì che ci siano anche delle agevolazioni nel corso della vendita si possono appunto vendere gli immobili però e quindi ci potrebbe essere una risposta anche all'esigenza di abitazioni che in questo momento hanno il decreto naturalmente è un decreto legge quindi comunque andrà convertito dovrà quindi passare per le camere e già si dice che ci saranno delle migliorie in fase di conversione in legge e queste appunto noi aspettiamo di valutarle per poter poi dare un giudizio completo però già è operativo di fatto è già operativo come diceva appunto il segretario di fiaip ci sono delle piccole irregolarità che possono essere sanate o comunque ci sono dei procedimenti che vengono semplificati proprio per questo però visto che va considerata e la legge nazionale ma anche i regolamenti edilizio ed urbanistici della propria zona noi abbiamo attivato come lei diceva degli sportelli presso le nostre sedi territoriali sono sparse su tutto il territorio riferimenti si trovano sul nostro sito www.confederizia.it dove potersi rivolgere per illustrare il proprio caso per ogni caso è diverso e fa a sé domande da casa maris allora io andrei subito a casa di gianluca lui ci sta seguendo da potenza ci ha mandato una mail ecco per il segretario segalerba dice sto cercando di acquistare una casa a roma ma sapete dirmi in generale quanto si spende per aprire soltanto le pratiche di un mutuo beh allora per quanto riguarda intanto si tratta poi di capire se l'acquisto sarà un prima casa o senza agevolazione quindi sicuramente si acquista come prima casa sul mutuo intanto c'è l'imposta sostitutiva è allo 0,25 sull'importo del mutuo in caso di prima casa il 2% se non è prima casa dopodiché ci sono quelle che sono le pratiche con la banca le spese di istruttoria legate al all'accensione del mutuo quindi la perizia e le spese consideri che a seconda di quelli che possono essere gli istituti bancari un range può stare tra i 500 e i 7 800 euro abbiamo detto decreto salva casa in qualche modo interviene quindi sugli appartamenti ma che succede in un condominio lo chiediamo al nostro esperto che siamo in collegamento con il rappresentante della la naci nicola d'alberti la naci e l'associazione nazionale degli amministratori di condominio le chiedo subito grazie grazie anzitutto le chiedo ma se io sano un po di irregolarità all'interno del mio appartamento devo comunque comunicarlo all'amministratore di condominio oppure posso farlo in maniera autonoma ma no non è necessario comunicarlo all'amministratore del condominio se non per un uso prettamente di buon vicinato in genere poi quando si fa qualche lavoro o qualche altra cosa si avverte l'amministratore del condominio ma dal punto di vista puramente amministrativo non necessita avvertire l'amministratore di queste fasi burocratiche ecco le chiedo le spese spese condominali perché qualcuno dice che tante persone non riescono a pagare anche per le difficoltà economiche le spese condominali ma è davvero così lei al polso della situazione e in questo caso quelli che pagano regolarmente sono un po' bistrattati sono un po' penalizzati che devono fare? Intanto stabiliamo che la morosità del condominio c'è sempre stata e in questo periodo sta assumendo valori ancora più significativi le motivazioni le addebitiamo sempre a una crisi finanziaria ed economica in cui le famiglie stanno attraversando e a volte queste morosità vanno ad incidere negativamente sulla conduzione amministrativa e finanziaria del condominio e spesso chi ci rimette sono sempre i condomini virtuosi perché si ritrovano a subire magari degli interventi che non possono essere fatti al condominio perché mancano i fondi o nel peggiore dei casi a volte è capitato che le utenze vengono staccate perché l'amministratore non ha fondi. Un'ultima battuta le chiedo ad Alberti ma anche in prospettiva lo scorso anno i mesi scorsi tutti avevano sempre timore un po' per la questione dell'energia dell'aumento dell'energia del gas eccetera di un aumento delle bollette. Come bisogna comportarsi? Cresceranno queste bollette condominali o più o meno sono stabili? Tutto è rientrato sostanzialmente quindi non ci saranno grandi aumenti. Ecco diamo un'indicazione ai nostri telespettatori. Ma ad oggi non si prevedono ulteriori aumenti dell'energia elettrica o del gas. Certo non siamo ritornati agli standard di qualche anno fa e quindi possiamo accontentarci che non siano ulteriormente aumentati. Il condominio ha degli strumenti per ridurre i consumi di gas e di energia elettrica ma magari possiamo parlarne in un altro in un altro momento. Benissimo grazie davvero come sempre Nicola D'Alberti rappresentante dell'Associazione Nazionale degli Amministratori Professionali del Settore degli Amministratori di Condominio chiaramente che sono in prima linea. Allora torniamo in studio con Segaleba per chiedere. Bonus edilizi. Grazie e buon proseguimento. Arrivederci. Grazie, grazie D'Alberti. Bonus edilizi in scadenza ci sono? Quali? Sì ci sono. Diciamo che la stagione dei bonus edilizi sta effettivamente evolgendo verso il termine. Abbiamo ancora per quanto riguarda, discorso a parte è quello del super bonus, c'è il bonus facciate che in questo momento abbiamo ancora il 50% dal prossimo anno verrà ridotto ulteriormente. Quindi diciamo che è una stagione che sta evolgendo al termine. La battaglia di confedizia è stata sulle cosiddette case green a livello europeo è stato stabilito che dovremmo in qualche modo rivedere tutte le nostre case. Però ci stanno tempi lunghi e fortunatamente è stato un po' allontanato. Ma si potrà ancora di più allontanare? Perché è vero che il patrimonio urbanistico italiano è abbastanza vecchiotto ma se non paghiamo le spese di condominio come facciamo a far diventare queste case green insomma visto che non ci sono tanti soldi in giro? Allora questo naturalmente è stato il nostro cavallo di battaglia degli ultimi tempi e ce ne siamo occupati dal 2021 proprio perché all'inizio addirittura giravano delle bozze in cui si prevedeva che gli immobili non efficientati non potessero essere né venduti né affittati. Quindi poi successivamente ci sono state delle migliorie. Lo stato dell'arte è che attualmente oggi la direttiva cosiddetta case green è in vigore, è stata pubblicata in gazzetta ufficiale, sono passati i 20 giorni però ricordiamo che è una direttiva quindi non è un regolamento perciò deve essere applicata in Italia. Nell'ambito dell'applicazione si potranno fare tante cose ma secondo noi si potrà già agire dopo appunto questa tornata elettorale in Europa per far sì che si possa in qualche modo modificare proprio l'ideologia che c'è dietro la direttiva case green. Al momento non vi sono degli obblighi immediati nei confronti dei proprietari di casa, ci sono degli obiettivi di risparmio del consumo medio, dell'energia primaria che dovranno appunto attuare gli stati con il loro piano quindi noi siamo qui per capire come quegli obiettivi secondo appunto il nostro governo potranno essere, se potranno appunto essere realizzati in Italia perché secondo noi il problema è che la direttiva è irrealizzabile, irrealizzabile in quanto prevede in Italia rispetto a questo punto di vista, voi aspettate insomma questa elezione europea e magari esce la nuova commissione possa modificare in qualche modo questo tipo di intervento che è stato già definito. Maris. Volevo leggere a Segale il messaggio che ci ha mandato Claudia, questa telespettatrice, ci racconta ho 33 anni, ho un lavoro a tempo indeterminato, vivo a Milano e vorrei comprare casa ma i costi degli immobili sono altissimi, ecco chiede ma non dovrebbe esistere una legislatura così tra virgolette che definisca il tetto massimo dei costi per l'acquisto di un appartamento? Esiste secondo lei? No, non esiste, siamo in un libero mercato e credo che domanda e offerta è la legge della domanda e dell'offerta sicuramente Milano in questo momento ha dei prezzi tra virgolette proibitivi ma io non credo neanche che ci sia una bolla speculativa ma è proprio la forte richiesta che c'è su Milano ed è chiaro che stanno venendo meno anche il numero degli immobili posti sul mercato. Ci sono però realtà differenti dove sicuramente è più facile acquistare anche per una persona giovane riuscire anche attraverso l'accesso al credito riuscire ad acquistare ad acquistare un immobile. E allora io proprio su questo punto vorrei sentire i nostri ospiti perché insomma ci sono tanti soldi sui conti correnti degli italiani ancora gli italiani risparmiano tanto ancora oggi. Ecco conviene investire nell'ambito del mattone perché sta tornando nuovamente questa voglia di investire del mattone nonostante le tasse, nonostante l'Imo perché può essere qualcosa di davvero conveniente anche piccoli appartamenti, piccoli investimenti magari non nelle grandi città dove i costi sono molto elevati ma anche città più piccole, borghi. Lo chiedo partendo dall'Aigidi. Sì, secondo noi conviene sempre acquistare nell'ambito dell'immobiliare proprio perché si stanno aprendo degli scenari che negli anni passati non erano assolutamente prevedibili. Per esempio pensiamo all'affluenza dei turisti nei piccoli borghi con appunto l'utilizzo di piattaforme che possono mettere in contatto persone che in Italia ma anche appunto in tutta l'altra parte del mondo. Proprio per questo l'investimento negli immobili resta sempre comunque una modalità di investire i soldi che gli italiani hanno nel sangue, quindi sia acquisto di case per la propria famiglia, quindi per i propri figli ma anche appunto sta tornando un acquisto per gli investimenti. Ecco, segala Erba, facciamo proprio un'analisi. Durante il periodo maledetto, quello del Covid, molti hanno detto che gli italiani vogliono cambiare casa, vogliono case più grandi, uno spazio per lo smart working, magari fuori dai grandi centri. Ora però mi sembra che sia ritornata questa voglia di investire proprio come forma anche per lucrare qualcosa, per avere qualche rendimento, cioè investire un secondo, un terzo appartamento, come dicevo prima, nonostante le tasse che si pagano. E così voi avete il polso come agenti immobiliari lungo la penisola, nord al sud, come sta cambiando questa voglia di investire? Allora, è cambiata sicuramente perché dopo il Covid sono cambiati il modo di vivere e quindi anche della nostra società di impostare il discorso legato alla casa. Sicuramente nella prima fase c'è stata la voglia di diversificare, di andare magari anche fuori dalla città. Adesso assistiamo un po' al fenomeno inverso, si cerca in città con spazi decisamente più grandi perché ormai quello che è lo smart working è diventato un qualcosa di necessario. Però vediamo anche che c'è l'acquisto, la tendenza verso l'acquisto della seconda casa anche nelle località turistiche di mare piuttosto che di montagna, anche perché assistiamo ad un fenomeno diverso, ovvero spesso quello che è lo smart working diventa di un giorno o due alla settimana, ma questi due giorni alla settimana legati al sabato e alla domenica diventano quattro. Quindi quella seconda casa è sostanzialmente una seconda casa che ha quasi una funzione della prima perché comunque ho la possibilità di trasferirmi in un posto dove comunque diventa anche di vacanza, posso continuare a lavorare e non solamente per un giorno e mezzo alla settimana, ma può essere un periodo più lungo. Consideriamo inoltre che nel 2023 abbiamo chiuso con 709.000 compravendite, comunque nonostante ci sia stata una riduzione di circa il 10% rispetto all'anno precedente, è comunque sempre un numero molto elevato di transazioni e questo calo è dovuto esclusivamente all'aumento dei tassi di interesse dei mutui, quindi molte persone sono rimaste... Ecco, ne parleremo. Tassi di interesse dei mutui, prima sentiamo i nostri spettatori e poi parleremo proprio che cosa accadrà, perché chi vuole comprare la casa per sé o vuole fare un investimento, beh, vuole fare chiaramente un mutuo, ma che cosa succederà nelle prossime settimane, Maris? Allora, a proposito di altre abitazioni, la signora Piera Dalodi ci racconta, mi riferisco all'Aigidi, dice buongiorno, ho due box, uno non è utilizzato, non c'è nessuna utenza, però il comune mi fa pagare l'importo e io non lo ritengo giusto, è corretto? Intanto bisogna capire che tipo di tassa viene richiesta dal comune, perché per quanto riguarda l'IMU sicuramente è corretto, per quanto riguarda per esempio la tassa dei rifiuti bisogna andare a vedere, è sempre corretto, ma bisogna andare a vedere nel regolamento del comune se per caso ci siano degli escamotage per poterla non pagare, quindi il consiglio è di andare a verificare presso gli uffici comunali. Ecco, a proposito di box, lo chiedo a Segalerba e soprattutto delle grandi città, è diventata anche una corsa all'acquisto, perché lì c'è sempre un'attenzione, perché sono abbastanza congestionate le città, le auto dove le mettiamo, è una forma di investimento interessante. Sicuramente sì, sicuramente sì, i prezzi sono lievitati molto, anche qui è la legge della domanda e dell'offerta, ma è chiaro che sono sempre di più le automobili che circolano sulle nostre strade, e soprattutto nelle città, tra virgolette, più vecchie non c'è la possibilità di costruire i box, e quindi quelli che ci sono, i prezzi salgono decisamente. Voglio acquistare casa, lo chiedo a Leggidi, il problema è fare il mutuo, è un problema ancora? Perché col tasso di interesse abbiamo visto tantissimo, fisso, variabile, con un tetto, insomma, ora come bisogna comportarsi? Si parla di una discesa dei tassi, quindi diventerebbe nuovamente interessante poter prendere un mutuo da una banca, è così? Diciamo che siamo tutti in attesa di questa discesa, perché si spera che possa già essere annunciata a giugno, quindi il consiglio è quello di attendere a giugno quello che succederà per quanto riguarda la BCE, e quindi per vedere che ci siano dei tassi più bassi. Poi a quel punto conviene andare a verificare presso più banche per chiedere più mutui e per avere un'offerta per poter scegliere al meglio il mutuo che risponda alle nostre esigenze. Che vuol dire che risponda alle nostre esigenze? Che la rata deve essere commisurata alle nostre entrate, perché quella è una verifica che va fatta sempre, cioè la disponibilità finanziaria di quanto io posso permettermi di pagare in futuro per non avere poi problemi. Ecco, se direbbe, ma posso rinegoziarlo più volte con la banca, nel senso che prima avevo un tasso variabile, poi l'ho cambiato, ora, magari mi sono fatto fare un tasso fisso, posso ritornare a un tasso variabile? Tranquillamente, più volte nella vita posso cambiare? Se trovo la banca che è disposta chiaramente all'accettare? Assolutamente sì, c'è la possibilità della surroga e quindi posso farlo tutte le volte che voglio. In realtà diciamo che il momento della surroga era qualche anno fa, quando eravamo in una situazione di tassi bassi, con i tassi allo zero o poco più, si è fermata in questo anno e mezzo a seguito dei dieci rialzi consecutivi dei tassi. È anche vero che in questo momento i mercati hanno già iniziato a scontare la fase di discesa, di ribasso, perché se vediamo tanto l'Euribor quanto l'Irs, che sono gli indici di riferimento del tasso variabile e del tasso fisso, hanno già iniziato una fase di discesa. E adesso, come diceva la dottoressa Egidi, siamo in attesa che la BCE, come d'altronde diceva il governatore di Banca Italia qualche giorno fa, è il momento, ci siamo, sono maturati i tempi, anche perché l'inflazione sta allentando la sua morsa, quindi per una discesa dei tassi. Domanda da casa. Dottoressa Egidi, allora, un messaggio dice, salve, mi chiamo, vi scrivo anzi, da Brescia, sono Anna, vivo in una palazzina e siamo sei appartamenti. Dice, io potrei fare un balcone? Devo avere bisogno dell'autorizzazione degli altri? Che cosa possiamo dire, Anna? Allora, nell'ambito della realizzazione di interventi sugli immobili condominali, bisogna sempre tenere presente una cosa, che si può utilizzare in un modo più intenso la cosa comune, ma si deve sempre avere il riferimento. Le linee estetiche del palazzo non le posso compromettere, la sicurezza statica, quindi bisogna verificare che cosa la signora voglia in effetti realizzare. Ecco, Segalerba, diamo uno sguardo anche alle persone anziane che ci seguono, perché la difficoltà economica, le pensioni che spesso non sono elevatissime, beh, c'è bisogno a volte per andare avanti, le spese sanitarie sono problemi seri. Allora, si è sviluppato questo fenomeno della nuda proprietà. Possiamo spiegargli anzitutto se è comunque in crescita e poi sostanzialmente, proprio in 30 secondi, che cosa vuol dire? Spieghiamolo a una persona anziana che sta a casa. Che cos'è la nuda proprietà? Sostanzialmente la persona vende i muri del proprio immobile, ma si riserva l'usufrutto, quindi si riserva la possibilità di vivere nell'alloggio per tutta la sua vita, sostanzialmente. Quindi ovviamente si parte, il valore non è commisurato a quello del reale prezzo di mercato, ma ci sono degli indici di differenziazione, nel senso che fatto 100 il valore dell'immobile, sulla base dell'età del proprietario, quindi dell'usufruttuario, il valore sarà più o meno alto. È chiaro che più è avanzata l'età e più il valore sarà commisurato a quello di mercato. È un fenomeno in crescita, Egi, di questo, però è una cosa che ci lascia tutti quanti un po' perplessi, perché in genere la casa era un passaggio generazionale all'interno del nucleo familiare, però le difficoltà economiche, spesso questa è una soluzione per tante persone, perché abitano là fino a quando vivono lo stesso tempo, però hanno una disponibilità economica per poter fronteggiare la quotidianità. È un fenomeno che adesso è attenzionato da parte delle persone, chiedono informazioni, ricordiamo che soprattutto è anche collegato ad un problema generazionale, cioè in Italia ci sono delle persone che non hanno figli, non hanno parenti a cui trasmettere il proprio patrimonio, questa è una modalità per poter rimanere comunque a casa propria, ma avere un guzzoletto da parte per poter spendere, far fronte per esempio a tutte le problematiche che si possono verificare nell'ambito della vecchiaia. Quindi è una modalità di compravendita del proprio immobile che in questo momento è attenzionata. Maris? Allora, in tanti telespettatori ci stanno mandando domande, ma anche testimonianze per quanto riguarda il 110%. Ecco, vogliono sapere, dottoresse GD, che fine farà? La 110% praticamente ha le battute d'arresto, quindi abbiamo ancora adesso la possibilità di utilizzarlo in alcuni casi al 70%, nel 2025 scenderà l'aliquota al 65%, sempre in alcuni casi, però praticamente come tutti i bonus è destinato a finire. Anzi, questo si incrocia col fatto che, come si diceva prima, dal 1 gennaio 2025, praticamente quasi tutti i bonus verranno a finire nella loro forma potenziata, resterà appunto il bonus per la ristrutturazione delle case alla 36% e con un tetto di spesa ridotto alla metà, salvo naturalmente che non intervengano dei provvedimenti di proroga da parte del governo. Regalerva, in base alla sua esperienza, diamo un consiglio utile a chi deve vendere o chi deve comprare casa? Proprio due cose fondamentali che spesso è disattento. diamo un suggerimento. Iniziamo da chi deve vendere casa. Allora, chi deve vendere, credo di affidarsi a un agente immobiliare e chiedere che venga realizzata una valutazione di stima corretta dell'immobile, una valutazione che deve essere messa per iscritto. Quindi, quanto vale la mia casa, senza creare facili entusiasmi, ma quello che è, in base all'andamento del mercato, il valore realizzabile dell'immobile. Dopodiché, se con un tecnico, verificare la conformità, quindi lo stato legittimo di cui parlavamo prima, del proprio immobile, perché consideriamo che in Italia, secondo uno studio del Consiglio degli Ingegneri, il 76% degli immobili presentano delle difformità più o meno lievi. Quindi questo è un elemento da verificare assolutamente prima di mettere sul mercato il proprio immobile. Chi deve vendere, invece, un suggerimento? Chi deve acquistare? Chi deve acquistare. Chi deve acquistare e verificare. Intanto, la propria capacità di sostenere la rata di mutuo. Quindi, se ha bisogno di far ricorso al credito, fare prima un passaggio attraverso una consulenza creditizia per capire quanto riesce a ottenere di finanziamento. Dopodiché, verificare, affidarsi a un agente immobiliare che possa illustrargli quello che è la zona e i valori del mercato. E quindi, considerare in base alle proprie esigenze familiari quelle che sono la zona preferita e l'avvicinanza, mezzi, servizi, scuole e tutto il resto. Maris? Il signor Franco da Genova è preoccupato, ha sentito questo depositamento dei bonus, dei vari bonus, quindi vuol sapere se riguarda anche il bonus mobili e se sì, si deve affrettare a fare degli acquisti. Sì, si deve affrettare a fare acquisti perché il bonus mobili viene a terminare, almeno così come lo conosciamo, salvo, come abbiamo detto, se non ci siano dei provvedimenti, viene a finire il 31 dicembre del 2024, anzi è stato già depotenziato rispetto all'anno precedente, adesso l'importo su cui calcolare la detrazione è pari a 5.000 euro. Ricordiamo che il bonus mobili deve essere collegato a lavori di ristrutturazione edilizia. L'ultima battuta con sega l'erba, perché prima, insomma, negli anni scorsi, negli anni 50-60, uno acquistava la casa, la seconda casa era quella al mare, ora è così ancora? Cioè la seconda casa è fuori dai grandi centri urbani, è in campagna, nei borghi, al mare, è cambiata in montagna, dove puntano gli italiani? Allora, c'è uno sviluppo, sicuramente l'Italia è tutta bella e tutta turistica, quindi sicuramente quelli che sono la fascia costiera è quella privilegiata, ma anche la montagna, i borghi delle campagne, ma soprattutto quello che si nota oggi è che l'acquisto della seconda casa è anche a scopo di redditività, quindi mettere l'immobile a reddito, dopodiché le vacanze le faccio un po' dovevano. Come il bed and break, casa vacanza e in altre forme di affitto. Grazie davvero ai nostri ospiti, grazie ad Alessandro Egidi, segretario generale di Confedilizia, a Fabrizio Segalerba, segretario nazionale della FIAP, la Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali. Chiudiamo qui questa puntata. E ovviamente grazie come sempre ai nostri telespettatori, ai nostri protagonisti per la partecipazione, vi aspettiamo così tanti numerosi, se non di più domani alle 10.30, perché parleremo della frutta di stagione, non so se voi conoscete, visto che le stagioni ormai sono cambiate, quali sono i frutti proprio di questa stagione, domani le scoprirete insieme a noi. E soprattutto i prezzi, ci dicono, ci dicono, ahimè, che alcuni prezzi, alcuni prodotti di stagione stanno volando, cerchiamo di capire il perché, se sono i cambiamenti climatici, l'arrivo da molto lontano, insomma cercheremo di capire prezzi e prodotti e qualità di stagione. Ci vediamo la prossima mattina, come sempre 10.30, grazie a tutti con attività, serena giornata.